Una preghiera per la pace perché nel mondo si rafforzi la fede, la speranza e gli uomini siano artigiani di giustizia e perdono. Nel Centro Studentesco Francescano Internazionale di Sarajevo, Papa Francesco ha incontrato i rappresentanti delle confessioni religiose presenti in Bosnia e Herzegovina e ha ricordato che il dialogo è una scuola di umanità e un fattore di unità che aiuta a costruire una società fondata sulla tolleranza e il mutuo rispetto. In un mondo purtroppo ancora lacerato da conflitti, la cosiddetta Gerusalemme ed Europa con la sua varietà di popoli, culture e religioni può dunque diventare nuovamente segno di unità, luogo in cui la diversità non rappresenti una minaccia ma una ricchezza e un'opportunità per crescere insieme. In questo cammino le diverse confessioni religiose hanno un compito primario perché il dialogo interreligioso, prima ancora di essere discussione sui grandi temi della fede, è una conversazione sulla vita umana. In esso, ha insistito il Pontefice, si condivide la quotidianità dell'esistenza nella sua concretezza, con le gioie e i dolori, le fatiche e le speranze, si assumono responsabilità comuni, si progetta un futuro migliore per tutti. Tuttavia, a concluso, è sempre bene ricordare che il dialogo per essere autentico ed efficace presuppone un'identità formata.